Dal 23 di ottobre chiederò ai cittadini che chiedono appuntamento di venire a parlare con il sottoscritto di portarmi il certificato elettorale perché non accetterò più richieste di sistemazione di buchi, di alberi, di fossi, se non mi dimostrano questo. Chiaro, avete capito bene, a Campo San Martino la porta del municipio resta sbarrata per chi non presenterà il certificato di voto. Parola di Paolo Tonin, il sindaco aprirà le porte a chi dimostrerà di essersi recato alle urne. E non c'è solo lui, anche Bobo Miatello di San Giorgio in Bosco intende adottare la linea dura. Siccome io di media ricevo dai 900 a 1000 persone all'anno, dopo il 22 di ottobre vorrò vedere se hanno il timbro della sezione dove sono andati a votare per il referendum. Provocazione o proposta concreta? Difficile capirlo. Sta di fatto che l'idea fa proseliti, dall'alta padovana al Bassanese. Chi vuole parlare con Giada Scuccato, sindaco di Pozzoleone, dovrà anche in questo caso portare con sé la tessera elettorale. Anche io il 23 di ottobre chiederò la ricevuta dei voti ai miei cittadini, ma soprattutto chiederò a loro se ci sono espressi su un referendum che ci dà forse per la prima volta nella storia la possibilità di avere un minimo di autonomia, un minimo di capacità di cambiare veramente la storia. Il fronte dei sindaci leghisti è compatto, ma non mancano le eccezioni. Paolo Bordignon, primo cittadino di Rosà, parla di discriminazione, ma poi lancia un messaggio ai suoi concittadini. Non venitemi più a parlare di autonomia se il referendum si dovesse rivelare un flop. Non mi sento personalmente, ma anche in qualità di sindaco, di fare queste discriminazioni, ma credo che l'appuntamento del 22 ottobre è un appuntamento importantissimo per tutti i veneti. Qui non c'entrano i partiti politici, qui c'entra la dignità di un popolo, qui c'entra un aspetto economico importante. Per cui il 23 ottobre chi verrà dal sindaco a lamentarsi perché in Italia non funzionano le cose, le tasse sono troppo alte, credo se non è nato a votare deve farsi un esame di consenza molto importante. Questo è un aspetto importantissimo e una dignità di un popolo veneto. Grazie. Grazie.